Inciuci di governo, senatori a vita, ribaltoni, con la riforma costituzionale, fine dei giochi, di palazzo. Il governo Meloni ha dato avvio all'iter per una riforma attesa da anni. Ecco i punti più importanti. Il presidente lo scegli tu, non il palazzo. Con l'elezione diretta del presidente del Consiglio dei Ministri, saranno gli elettori, con il loro voto, a scegliere il premier. Più potere agli italiani. Stop ai senatori a vita. Lo saranno solo gli ex capi dello Stato, salvo rinuncia. Addio ai senatori a vita di nomina presidenziale. Mai più ribaltoni e inciuci di governo. Caduto un esecutivo, non sarà possibile formarne uno nuovo, sostenuto da una maggioranza diversa da quella espressa dalla volontà degli italiani. Stop ad accordi trasversali e governi tecnici. Con la riforma costituzionale voluta dal governo Meloni, fine dei giochi di palazzo.